300 iscritti sul canale youtube un saluto amici e bentornati nuovamente con me oggi voglio festeggiare con voi i 300 iscritti del mio canale youtube certo sicuramente rispetto ai grossi youtuber, ai grossi influencer non è niente ma per me invece vuol dire tantissimo vuol dire comunque avere un mio seguito di follower che sono interessati agli argomenti e soprattutto anche che continuano a sostenermi quindi ancora una volta da parte mia un grazie di tutto cuore e rinnovo comunque anche, mi raccomando, gli appuntamenti del venerdì sera sulle piattaforme di twitch, youtube e facebook di comisgear programma realizzato in collaborazione con il nostro capitano Luciano Costarelli ed Elena Cerisciola e con tanti tanti ospiti che parleranno del mondo del fumetto, del manga a tutto tondo e di cosa di questa nobile arte ancora si sa e non si sa soprattutto e poi un grande bonus della domenica che è La mia testa fra le nuvole in cui io, Giulia De Monte e Gio Testa cercheremo di rivivere tutti quegli anime tutti quei cartoni animati, quei personaggi che ci hanno conquistato il cuore e soprattutto sempre tramite ospiti anche di capire e di analizzare come queste storie sono state create e soprattutto anche capire un po' quelle tecniche che magari sfuggono o comunque cercare veramente di capire cosa c'è alla base di queste creazioni e cosa hanno reso appunto queste serie delle serie di grande successo mi raccomando, quindi vi aspetto, un saluto e quindi vi aspetto, un saluto